Ben ritrovati a tutti voi cari amici di Angoli, benvenuti anche questa sera in queste serate di festa che stiamo trascorrendo insieme qui al nostro appuntamento immancabile delle 19. Subito la nostra mail, per restare sempre in contatto con la nostra redazione basta scrivere ad angolichiocciolaespansionetv.it Bene, questa sera di questo parliamo, perché c'è addirittura un'edizione speciale, una Christmas Edition, ma di che cosa voi direte? Certo, cucina, ricetta è normale, invece c'è qualcosa in più di speciale che ci raccontano i nostri ospiti che sono qui con noi questa sera. Arianna Augustoni, ciao Arianna! E ridi dai che ti vedo che stai trattenendo il sorriso. La nostra amica, la nostra giornalista che davvero è stata qui da noi qualche tempo fa per presentare questo progetto meraviglioso, come ho detto, cucinare al fresco, addirittura in questo momento in una Christmas Edition, un progetto pazzesco, bellissimo, per il quale io ti faccio tantissimi complimenti innanzitutto, e che sta andando davvero, insomma, nella direzione sperata e desiderata. Ma, aperta e chiusa, parentesi con te, questa sera io sono molto felice, perché qui con noi c'è Valentino. Ciao Valentino, è benvenuto a te, grazie per essere qui. Tu sei redattore dei ricettari Cucinare al Fresco. Io ti ringrazio per essere qui questa sera, perché siamo curiosi di capire, insomma, poi come avviene tutto questo lavoro, come si scelgono le ricette, tu come hai interagito. Quindi preparati che tra poco ti riempiamo di domande e ci devi raccontare assolutamente tutto. Marianna, torno da te, insomma, questo progetto davvero sta decollando e sta portando grandissimi successi. Siamo passati da un istituto carcerario a quattro, infatti oltre che al Bassone, siamo a Varese, a Bollate e al carcere di opera. Un'operazione che sta prendendo sempre più piede e che in questi giorni proprio potrebbe raggiungere il punto di svolta. Ovvero? Potrebbe essere ampliato il raggio d'azione su cui lavorare con i detenuti. Adesso siamo arrivati a un 60 detenuti che collaborano sulle varie edizioni e soprattutto abbiamo diversi progetti. Abbiamo un trimestrale con delle ricette stagionali, una Christmas edition. Siamo già pronti con un'edizione speciale di dolci e torte. Ci aspettiamo quello di Pasqua e noi continuiamo a lavorare in tal senso. Beh, io direi la prossima volta direttamente qui con un tavolo di lavoro e realizziamo in diretta una delle vostre ricette. E questo infatti è un altro passaggio perché fino ad oggi parliamo di teoria, prepariamo le ricette, chiacchieriamo, siamo in aula, ce le spieghiamo, me le faccio scrivere in maniera corretta, ma il prossimo step sarà quello di poter invitare degli chef all'interno degli istituti per poter realizzare qualche piatto perché questa Christmas edition è stata firmata da Moreno Cedroni, chef bistellato con la madonnina del pescatore a Senigallia che forse all'inizio non credeva nemmeno all'iniziativa e al progetto. Dopo due anni mi ha detto, oh complimenti ce l'hai fatta e quindi ha deciso di portare il suo contributo in questa edizione di Natale per le feste. Quindi davvero tantissimo lavoro, tante collaborazioni, tanto successo. Valentino, è il tuo momento a questo punto. Quindi come, intanto come hai preso questa iniziativa, questa proposta? Quando ti hanno detto che si poteva insomma pensare a un progetto di cucina, tu che cosa hai pensato? Sinceramente, sinceramente ne parlavo anche con lei prima, non ci credevo più di tanto perché la realtà dei progetti, soprattutto nelle case di reclusione, sono molto, sono brevi e tendono più a sfumare col tempo. Invece proprio prima gli ho detto, ce l'hai fatta, ce l'abbiamo fatta e... È giusto, ce l'abbiamo fatta perché tra l'altro tu con altri sei sicuramente uno, insomma, dei soggetti più attivi in questo progetto perché hai davvero avuto un ruolo molto importante. Che esperienza è stata quindi questo tipo di collaborazione? È stata un'esperienza emozionante più che altro, più che altro emozionante. Come ti ho detto non me l'aspettavo, piano piano ottenere una ricetta di uno, una ricetta di un'altra persona, le mie ricette, mettersi in gioco. Vuoi raccontare che cosa hai fatto praticamente in questo progetto, da dove sei partito, di cosa ti sei occupato? Mi sono occupato innanzitutto di raccogliere tutte le ricette, tutte le ricette in giro per la casa circondariale e poi ho partecipato anche con una ricetta che mi ricordava mia nonna. Ah, quindi una ricetta proprio tua? Sì, sì. E qual è? Una ricetta che mi ha fatto, mia mamma è di Santo Domingo e mio padre è siciliano, ho fatto una ricetta che mi ricordasse mia nonna materna. Quindi di Santo Domingo. Santo Domingo. Repubbile Domenica. Allora siamo curiosi, questa ricetta ce la puoi, insomma, magari riassumere, è contenuta in questa Christmas Edition? Sì, sì. Ah bene, allora rimostriamola di nuovo, qui dentro potete trovare addirittura una ricetta che arriva da Santo Domingo, quindi io direi assolutamente il momento in queste giornate di festa di preparare anche cose nuove, cose che ci portino anche lontano, addirittura dall'altra parte dell'oceano. Allora, questa ricetta che cosa dice? Intanto che cose prepari? In breve è il riso, breve, in breve, molto breve riso, con della carne. Questa è la base. La base, sì. E quello che cambia è il modo di cottura, il modo di cottura e il tempo di cottura. Ho fatto il riso al vapore, il riso al vapore che però alla fine cottura, invece di essere cotto solamente al vapore, viene anche soffritto in un certo modo per far sì che la crosta sotto rimanga croccante e dorata e della carne cucinata con varie spezie anche tropicali per far sì che ci sia un sapore più forte, più saporito. Senti, insomma, proporre queste ricette ti fa piacere, nel senso che porti anche un po' la tua cultura. Esatto, assolutamente. Fa piacere a me e mi fa ancora più piacere che mi ricordo mia nonna e le mie origini latino-americane. Che belle queste cose, guarda, bellissimo, grazie. Al prossimo ricorderò le mie origini sicule. E quindi, insomma, un bel mix, tra l'altro, è assolutamente molto interessante. Ma Valentino, continuiamo a parlare di questa tua esperienza con la cucina. Quindi nel momento in cui ti sei relazionato con le altre persone, quindi che stavano lì, tutti sono stati come te entusiasti di partecipare a questo progetto. E soprattutto queste ricette, da dove uscivano, tu dici, dalla mia tradizione, dai ricordi della mia nonna. Invece gli altri a che cosa hanno attinto per proporti una ricetta da inserire in questo ricettario? Gli altri più che altro a, posso dire, a momenti passati in famiglia, a momenti passati durante la detenzione anche. Ci sono anche dei momenti durante la detenzione che nella sfortuna e nella tristezza ci si può, ci, come si dice, aiutiamo, ci aiutiamo tra di noi. Quello più che altro. Ci sono tanti compagni che hanno fatto molte ricette, come ti posso dire, che mi sono un po'... Prova, prova, di. Come sono queste ricette degli altri tuoi compagni? Ricette un po' speciali, perché non sono ricette normali, come dite, non sono ricette che tu guardi in un ricettario normale e puoi dire, è una pasta da carbonara, ogni ricetta c'è quel pizzico in più che purtroppo e per fortuna si trova solamente in carico. Anche perché io credo che in quelle condizioni, insomma, non è come nella cucina di casa che qualunque cosa tu debba prendere per preparare perfettamente il piatto ce l'hai a disposizione o ce l'hai al supermercato sotto casa. Devi un pochino arrangiarti, è vero? È vero. Quindi proprio per questo forse queste ricette hanno quel valore aggiunto in più, come tu giustamente dici, perché intanto mettono alla prova nel poter preparare una ricetta ottima, magari con meno ingredienti e meno cose a disposizione. E poi soprattutto, credo, come tu hai ben sottolineato e l'hai fatto arrivare molto bene agli amici che sono a casa, c'è un insieme di emozioni, di ricordi, di momenti che io credo lì, insomma, siano sempre accanto a voi. Esatto. E amplificati anche. E amplificati anche. Molto amplificati. Allora, io ve lo ricordo, insomma, cucinare al fresco in questa Christmas Edition, ecco qua, e lo rimostro di nuovo a favore di camera, non è soltanto ovviamente una raccolta di ricette, ma è anche una raccolta di emozioni, emozioni che voi a casa potete sicuramente rivivere e magari anche da parte vostra rienterpretare e rendere ancora più preziose. Allora, Arianna, torno invece da te. Cosa ti arriva dai racconti di Valentina? In questo momento lui, insomma, magari è anche un po' emozionato perché raccontare queste cose, insomma, porta fuori molto. Ma tu che sei stata l'artefice di questo progetto, vedendo il risultato, vedendo il successo, immaginando quello che avverrà e soprattutto avendo qui Valentino che ci racconta, che chiacchiera con noi, insomma. Quindi si instaurano dei rapporti particolari perché anche chi esce, chi all'esterno è sempre curioso di sapere come va il progetto. E ognuno si mette a disposizione per la propria parte per essere utile e per comunicare all'esterno quello che è il valore del nostro ricettario. Il nostro ricettario perché se non ci fossero loro, Arianna sarebbe semplicemente una persona che entra, li guarda, li ascolta, ma non concluderebbe nulla. Perché io l'ho sempre detto, non so cucinare, non mi appassiona nemmeno la cucina, ma loro cercano in tutti i modi. Ma com'è sta cosa? Perché questo è lo sforzo. Il piatto finale è il punto di arrivo. La cosa importante è proprio far raccontare le esperienze, pregresse e quelli che sono i loro ricordi. Io ho in mente una persona che dal niente ha alzato la mano dicendomi ti devo raccontare un episodio della mia vita e me l'ha raccontato. Non c'entrava niente in quel momento. Però lì ha provato delle emozioni per cui si è sentito in dovere di raccontare anche quando faceva merenda con i suoi fratelli, a cui mancava il formaggio piuttosto che il prosciutto, dove dovevano spartirsi tutto. E uno dice sì, ma non c'entra nulla, poco importa. È qualcosa che lui ha ritenuto di dover raccontare. È la fiducia nella persona che entra e che non è lì per fare né il censore né per giudicare. Io sono lì con loro a chiacchierare e a farmi raccontare queste esperienze. Esperienze che sono profumi e sapori. E io ti ringrazio per essere venuta qui. Siamo davvero ai saluti. Quindi ricorda anche dove si può trovare questo ricettario. Questa pubblicazione è stata sostenuta da tante persone che ci stanno aiutando nel corso dei mesi e nel corso degli anni. Costa 3,50 euro perché abbiamo dato un prezzo ed è disponibile in Ubik in piazza San Fedele a Como, che è la libreria che ci ha supportati sin dall'inizio. E naturalmente aderire a questa operazione poi permette a questo cammino di continuare. Quindi è molto molto importante. Allora, io vi ricordo, cucinare al fresco in questa Christmas Edition sarà un altro modo per dare ancora più significato a queste giornate di festa. Io saluto e ringrazio Arianna, Augustoni, ma soprattutto davvero credimi Valentino. Grazie, grazie per essere stato qui, per aver davvero contribuito a mandare un messaggio importante. Tu ne sei consapevole, assolutamente. Grazie a voi Arianna per la possibilità. Torna quando vuoi. Noi siamo sempre qua. La prossima volta cucini. Cuciniamo la ricetta dei Caraibi, va bene? Benissimo. Grazie e ci rivediamo prestissimo. Grazie anche a voi. Con voi ancora prima, proprio tra qualche minuto.